Nuovo spazio con l'informazione dal Corriere di Sciacca. Oggi è giovedì 23 luglio. Tragedia oggi nel Nisseno. Un uomo di 56 anni di Favara che lavorava nella diga Comunelli, nei pressi di Butera, è stato travolto e schiacciato da un escavatore che lui stesso stava manovrando. L'uomo Giovanni Cusumano lavorava per un'azienda che aveva il compito di installare dei monitoraggi per la diga. Altri operai sono intervenuti cercando di liberarlo, ma non c'è stato nulla da fare. La procura di Caltanissetta ha avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità. Da questo weekend, ci trasferiamo a Sciacca, viene istituita la pedonalizzazione del centro storico, chiuse al traffico veicolare Corso Vittoria Emanuele nel tratto compresso tra Piazza Friscia e l'incrocio con via Colocappellino, la via Roma, che si aggiungono così alle altre aree del centro già pedonalizzate come via Garibaldi, piazza Don Minzoni. Nel mese di luglio la chiusura alle auto avverrà nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, dalle ore 20 all'una di notte, nel mese di agosto tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dalle ore 20 all'una e dal venerdì alla domenica dalle ore 20 alle ore 2. Ormai abbiamo capito e sicuramente comprendiamo che il sindaco Francesca Valenti non è più nelle condizioni di reggio nel confronto politico. Lo dice il consigliere comunale Giuseppe Migliotti, firmatario di due emendamenti al regolamento della consulta del commercio, approvato ieri sera dall'Aula anche con i voti della maggioranza. Migliotti si riferisce alla scelta del primo cittadino di non partecipare alla seduta in presenza e di rinviare ancora la presentazione degli assessori e il dibattito politico. Forti dei numeri, dice Migliotti, abbiamo comunque portato a casa degli emendamenti proposti sul funzionamento della consulta e fortemente voluti dalle parti sociali contro la volontà dell'amministrazione, ma votati anche da consiglieri di maggioranza presenti. Riapre lunedì 27 luglio l'ufficio postale Sciacca 2 di Via Fratelli Argento a Sciacca, previsto inoltre il potenziamento degli uffici postali di Caltabellotta a Sciacca 4 alla Perriera. Tutti gli uffici adotteranno misure idonee di sicurezza per l'emergenza sanitaria, come ad esempio l'installazione di pannelli schermanti in plexiglass, il posizionamento di strisce sul pavimento che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale e procedure di senificazione realizzate a tutela della salute di personale clientela. Il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, ha diffuso i risultati parziali, ma si può votare fino al 15 dicembre, nella decima edizione del censimento nazionale FAI Luoghi del Cuore. Ad oggi sono tre i siti in provincia di Agrigento che si trovano ai primi dieci posti di questa speciale graduatoria, davanti a tutti Scala dei Turchi, Real Monte, la prima grande scogliera di Barna Bianca, poi il Teatro Andromeda di Santo Stefano di Quisquina, vera e propria opera d'arte all'aperto che si trova a mille metri d'altezza in cima ai Montesicani. E infine la Biblioteca Lucchesiana, situata nel centro storico di Agrigento, eretta dal conte Andrea Lucchesi Palli, vescovo di Agrigento, fu donata al popolo e aperta al pubblico dal 1765. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione con cui seguite come sempre il nostro spazio dedicato alle informazioni video flash. Restate su Corriere di Sciacca.it Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.